La Chiesa della Madonna dell'Archetto, qui a Roma, ospita l'immagine della Madonna venerata con il titolo di Causa della nostra Letizia, quadro realizzato nel 1690 dal pittore Domenico Muratori su commissione della Marchesa Papazzurri. Questa chiesa però fu realizzata dopo nel 1851 in forme neorinascimentali, è un piccolo capolavoro, è una chiesa piccola ma molto graziosa, in conseguenza del miracolo del 1796, quando la si vide roteare gli occhi, in quel periodo la popolazione viveva nel timore dell'invasione napoleonica. Quell'anno lì ciò accadde in altre zone di Roma, in altre immagini. Qui è il famoso triangolo miracoloso che appunto qui a Roma include anche Sant'Andrea delle Fratte, quindi la Madonna del Miracolo e Santa Maria in via.